La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon martedì a tutti e bentrovati con l'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Andiamo sulle pagine del mattino nazionale, la prima pagina parla della fiducia, oggi il nuovo governo Meloni sarà alla Camera dei Deputati e poi al Senato per la fiducia. Vediamo il titolo per il mattino nazionale, Meloni il giorno della fiducia. Oggi il discorso a Montecitorio, un patto per 5 anni, sostegno a Kiev e tutela dei diritti. Il piano per le bollette, moratoria e platea più larga per il bonus, Salvini farò rispettare i confini. E poi gli altri articoli, andiamo in Gran Bretagna, Sunak, il premier di origini indiane più giovane e più ricco di Re Carlo. Dopo le dimissioni di Truss ci sono tanti modi per entrare nella storia del proprio paese, essere il più giovane premier donna, per esempio, oppure essere uno dei pochissimi primi ministri ad aver servito sotto due sovrani differenti. Eppure Mary Elizabeth Truss sarà probabilmente ricordata dagli elettori e dai posteri solo per essere rimasta in carica poco meno di 50 giorni. E poi c'è la, sul mattino, c'è anche il profilo del nuovo premier inglese. Andiamo avanti, gli altri articoli di primo piano, vertice in Lussemburgo, l'apertura di picchetto fratin, favorevoli al nucleare pulito. Per l'analisi, e ci spostiamo di fondo, politica estera al servizio della pace e poi la riflessione perché è giusto fare i conti con il merito. Andiamo di spalla, l'economia, i focus, meno risorse ai disabili del meridione, più al nord. La storia perversa del fondo non autosufficienza è raccontata in dettaglio dalla Commissione Tecnica Fabbisogni Standard che spiega come la ripartizione dei soldi tra le regioni penalizzi il sud a vantaggio del nord. La regola che discrimina per residenza persino i disabili è contenuta in un decreto che avrà effetto fino al 2024. E poi il dossiere, il reddito, accumula flop solo uno su cinque a un lavoro. A centro pagina, missione di morte nel parcheggio del supermercato, avvola l'omicidio davanti alle famiglie, la vittima 22 anni attendeva il processo. Nella fotonotizia invece, caro ministro, ora potenziamo l'istituto che è la casa di Croce. Venerdì la visita di San Giuliano a Napoli. Le notizie in basso, lo sport, Osimena un gol incredibile come Van Basten, Boninsegna promuove Victor dopo la prodezza di Roma e può fare coppia con Raspadori. E poi l'entusiasmo della città, Napoli febbre da scudetto, tifosi show al Maradona. Ancora l'ambiente, imbrattare i capolavori e dell'arte è soltanto un inno al fanatismo, l'ambiente e l'assalto a Van Gogh e Monet. Torniamo in alto, nei box sotto il titolo di testata, oggi l'eclissi, lo spettacolo del sole oscurato, torna dopo 18 anni. E poi Luttazzi, il maestro di swing, jazz e stile narrato da Verdelli alla festa di Roma. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Vediamo invece i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. Si parla del settore edile, un settore edile nel Salernitano in crescita. Vediamo edilizia, macigni sulla ripresa, l'allarme del lance. Settore ripartito dopo dieci anni, ma i rincari possono bloccare i cantieri. L'assemblea dei costruttori salernitani, crisi di liquidità e burocrazia, subito interventi. La ripresa del comparto edile in provincia di Salerno, avviata lo scorso anno e proseguita anche nei primi mesi del 2022, rischia una brusca interruzione a causa della crisi di liquidità determinata dal caro materiale e dal blocco delle cessioni dei crediti fiscali a causa della crisi ucraina. E quanto viene evidenziato nella sua relazione dal presidente di Ance, Aies, Salerno, Vincenzo Russo, in occasione dell'assemblea annuale che si è svolta ieri all'hotel Baia, nel corso della quale si è tenuto il convegno, l'edilizia oltre la crisi. E poi l'intervento di Federica Brancaccio serve una nuova politica industriale, bonus boomerang, se non sono stabili. Restiamo sempre in alto. La scuola, e ci spostiamo di fondo, studenti, carenze nell'apprendimento per uno su tre, scoglio matematica. Per la sanità, ruggi, mancano le barelle, infila le ambulanze, fratelli d'Italia all'attacco. Andiamo a centropagina, la politica, rimpasto al comune di Salerno, pressing progressisti, ma Napoli non c'è, del primo cittadino non vuole cambiare la giunta, l'ipotesi, un assessorato in più. In Pol c'è fiore da assegnare la delega allo sport. A Nocere Inferiore, i primi 100 giorni di De Maio, sindaco, periferie, viabilità e benessere sociale. Per la fotonotizia, invece, la Salernitana si prepara alla sfida contro la Lazio. Iervolino salta la prima in casa di Lotito. Settore ospite all'Olimpico, meno posti e ticket più costosi. Lira dei tifosi. Andiamo in alto, nei box, il teatro Ghirelli, Dickens NPPP, performance con carbone. E poi la borsa di Pessum, turismo archeologico, ora la sfida è subacquea. In basso, invece, la sentenza in cabina elettorale con il cellulare, condannato e bolitano inchiodato dai click della macchina fotografica. 40 giorni di carcere, ovviamente pena sospesa e quanto disposto nella giornata di ieri dal GIP del Tribunale di Salerno, a carico di un cittadino di Eboli, segnalato all'autorità giudiziaria perché alle ultime elezioni amministrative del suo comune, aveva introdotto il cellulare nella cabina elettorale per fotografare la scheda e quindi la croce messa sul simbolo e il nome del candidato votato. Dall'esterno, il presidente del seggio aveva sentito il click della macchina fotografica e aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il capo di imputazione era molto semplice, l'uomo è stato accusato di aver introdotto un dispositivo elettronico non autorizzato nella cabina elettorale. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre sulle prime pagine, vediamo invece quali sono i principali titoli per il quotidiano, le cronache. In apertura le polemiche all'interno della maggioranza del comune di Salerno, Loffredo fa il capo dell'opposizione e attacca il sindaco Napoli, in attesa del rimpasto di giunta e una minoranza eternamente dormiente. Il presidente del consiglio, voglioso di diventare assessore e vice sindaco, lancia la sua crociata, Piazza della Libertà, accelerare l'iter per i negozi. E Ferrara cosa dice? E restiamo a Salerno, le giornate per l'ambiente si inizia oggi in Via Roma e a Mercatello. In alto il ricordo di Valese e Gravagnuolo, il giro d'onore al Vestuti e il saluto romano dei camerati dopo la messa, il commovente addio a Fiore Cipolletta, l'eterno ultra della tifoseria Granata. A centro pagina la festa al comune dei Salernitani Doc, Massimo Staglioli, riconoscimenti anche a quelli di adozione, Salerno, città dell'accoglienza, si rinnova l'appuntamento a Palazzo di Città, tutti i nomi dei premiati. A Camerota per il premio Nasseria per la pace c'è l'Amerigo Vespucci, la nave scuola, la storia della famiglia Califano. E poi andiamo a Eboli, lutto nella politica e morto Pasquale Infante, ex capogruppo del PD. E poi troviamo sul quotidiano Le Cronache l'intervista al direttore del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diane Alburni, Romano Gregorio, bene il Ministero del Mare per tutelare la nostra biodiversità. Questa è la prima pagina di Le Cronache, queste le nostre prime pagine, torniamo ora sul Mattino Nazionale, approfondiamo i temi che abbiamo già visto dalla prima pagina, partendo dalla giornata della fiducia per il governo Meloni. Oggi infatti il governo si presenterà alle Camere, prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato per ottenere la fiducia e poter quindi partire con il suo mandato. Vediamo. Meloni, oggi fiducia in aula, un patto per cinque anni, la premiera Montecitorio per il discorso programmatico al centro sostegno a Kiev, lotta al caro Bollette e ruolo delle donne. Ribadirà gli impegni assunti prima del voto sulle pensioni e sulla revisione del reddito, il focus sulle riforme. Vediamo una parte dell'articolo, responsabilità e concretezza. Questa mattina Giorgia Meloni si presenterà alla Camera dei Deputati per tenere il suo primo discorso programmatico da Presidente del Consiglio. Un intervento denso a sentire i suoi consiglieri con cui la Premier chiarirà cosa ha in mente per i prossimi cinque anni, guadagnando la fiducia dell'Aula. Il voto arriverà in serata dopo la discussione generale e la sua replica che anticipa il passaggio a Palazzo Madama di domani. Al netto di una visione necessariamente a lungo termine, in primo luogo la leader di Fratelli d'Italia chiarirà l'impellenza di imprimere all'attività parlamentare di governo uno sprint pari a quello che ha consentito di terminare il passaggio di consegno con Mario Draghi già domenica. La priorità infatti è far fronte alla crescita dei prezzi delle energie e i suoi riflessi sugli italiani, responsabilità e concretezza, spiegano. E poi vediamo 237, la maggioranza alla Camera, senza contare il Presidente Fontana che non partecipa al voto, nel numero sono compresi anche sei ministri, 115 la maggioranza al Senato, escludendo il Presidente e la Russa, voteranno anche i nove ministri provenienti da Palazzo Madama. E poi andiamo in basso per quanto riguarda i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, Talò e Pugnalin, la squadra di Giorgia Chigi, nel segno della continuità. La leader Fratelli d'Italia potrebbe cedere la delega per i servizi segreti come capo di gabinetto, spunta l'ipotesi di Gaetano Caputi. Vediamo quali sono i nomi, Carlo Deodato, Empol come segretario generale, Riccardo Pagnalin, probabile consigliere di Palazzo Chigi, mentre Francesco Maria Talò è possibile consigliere diplomatico di Meloni. Questi i nomi che sosterranno la Premier. E andiamo avanti, vediamo per quanto riguarda invece le misure che il nuovo governo Meloni sta già valutando contro il caro energia. Vediamo moratoria e platea larga, ecco il nuovo piano per gli aiuti sulle bollette. Si studia lo stop ai distacchi per sei mesi e l'Isee a 15 mila euro per il bonus sociale. Salvini in manovra inserire l'estensione della flat tax quota 41 e cartelle rottamate verso la conferma dello sconto fiscale del 40% per le imprese, inclusi bar, alberghi e ristoranti. Per abbreviare i tempi il governo potrebbe presentare un maxiemendamento al decreto aiuti terra. E poi Matteo intanto rilancia sui migranti. Faremo rispettare i confini, il leader della Lega avvisa Musumeci. La delega ai porti rientra nel mio ministero. E chiudiamo questa pagina. Andiamo avanti e parliamo ora invece dell'energia per rendere l'Italia autosufficiente. Vediamo l'apertura di picchietto sia al nucleare e cingolani missione gas. Il nuovo ministro e il suo predecessore insieme al vertice di oggi in Lussemburgo. L'atomo ok alla sperimentazione per le centrali di nuova generazione. Continua il calo del prezzo del metano. Le quotazioni sul TTF scendono sotto i 100 euro al megavattore. E poi l'effetto del nuovo governo in Italia per la finanza. Effetto governo borsa su il metano sotto quota 100. Con il nuovo esecutivo e la caduta del gas. Piazza Affari fa registrare un più 2%. Regina d'Europa, nomisma risvolti positivi sulle bollette. Prima seduta dopo la costituzione del governo Meloni. Ampiamente positiva per la borsa di Milano con l'indice FTS-MIB. Che ha chiuso con un guadagno di quasi il 2%. Sfiorando quota 22.000. Ha sicuramente inciso il fatto che il prezzo del gas ad Amsterdam ha sfondato verso il basso il tetto dei 100 euro dopo mesi invece di prezzo alto. Lasciamo anche questa pagina e parliamo ora di reddito di cittadinanza. Lo abbiamo già visto anche dalla prima pagina. Una nuova analisi su quelle che sono stati i vantaggi di questo reddito. e ancora una volta si registra come non abbia prodotto in realtà occupazione. Vediamo. Il fallimento del reddito colloqui con il contagocce. Solo 1 su 5 oggi è a lavoro. Il dossier sulla riforma del sussidio sul tavolo della ministra Calderone. Negli ultimi tre anni il 73% degli occupabili non ha mai avuto un contratto. Il nodo dei 1.000 navigator ancora in servizio che ora chiedono al nuovo governo di mantenere il posto. In futuro si potrebbe puntare su un maggiore coinvolgimento delle agenzie private. Vediamo una parte dell'articolo. Sono un migliaio di irriducibili con il contratto in scadenza alla fine della settimana. Sono i navigator di Luigi Di Maio e Mimmo Parisi, l'ex numero 1 di Ampal. Sono quelli che armati di tablet e airpod avrebbero dovuto traghettare nel mondo del lavoro i percettori del reddito di cittadinanza ritenuti occupabili. Peccato che hanno viaggiato a una media di un colloquio effettuato al giorno secondo i dati del Ministero del Lavoro e che su circa un miliore di beneficiari attivabili attualmente in misura gli attivati siano meno del 20%. Molti navigator hanno già gettato la spugna, in realtà circa la metà di quelli assunti nel 2019 ha lasciato nei mesi scorsi l'arca di Noè e Grillina dopo aver trovato un lavoro altrove anziché trovarlo ai percettori del sussidio. E poi vediamo i numeri. Il reddito di cittadinanza, dati ad agosto 2022, nuclei per settori di reddito o pensione di cittadinanza al sud 759.720, come vediamo la fetta più alta, al centro sono 180.016 e al nord 242.572, la quota del 44%, la quota di persone in povertà assoluta che sono beneficiate dal reddito di cittadinanza. E quindi insomma vediamo che gran parte dei percettori del reddito di cittadinanza in realtà non, come già insomma era emerso dal dossier della Caritas, in realtà non versano in condizioni di precarietà e di povertà assoluta. Andiamo in basso. Spesso di 5 miliardi in 8 mesi nell'anno record delle domande. Ad agosto 2022 il contributo era stato già chiesto da 200.000 famiglie in più. Secondo le stime, entro Natale l'impegno finanziario sarà superiore ad 8 miliardi. di inflazione e caro energia aumentano le richieste per il reddito di cittadinanza. Nei primi 8 mesi di quest'anno 1,1 milione di nuove richieste, nuove persone hanno fatto domanda per ricevere il sussidio. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora dei sottosegretari perché in questi giorni ci sarà anche la nomina dei sottosegretari, anche la Campania potrebbe avere pare dei nomi almeno in rappresentanza proprio nei diversi ministeri. Vediamo anche quali sono le possibili scelte del nuovo governo per i sottosegretari. Campania è in corsa per quattro posti, fissata la ripartizione delle 40 caselle, metà a Fratelli d'Italia, il resto suddiviso tra Forza Italia e Lega. L'obiettivo è chiudere entro il 7 novembre in Pol Salernitano, il Salernitano Cirielli per il Viminale. Vediamo i nomi campani che potrebbero quindi essere nominati come sottosegretari al Ministero dell'Interno, cioè come abbiamo visto Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, alle infrastrutture Edoardo Rixi della Lega alla Giustizia, Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia, agli esteri Valentino Valentini di Forza Italia, Pina Castiello come sottosegretario all'economia della Lega e per il Sud e il Mare Gianfranco Miciche di Forza Italia. Buone chance per l'ex prefetto Pecoraro e Castiello adesso punta all'economia. E con questa pagina ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, sfogliamo le pagine dei quotidiani salernitani, andiamo sulle pagine di primo piano del mattino di Salerno, in primo piano si parla della scuola per quanto riguarda anche i risultati della formazione dei ragazzi ma soprattutto come vediamo dal titolo dell'apprendimento, apprendimento carente per uno studente su tre. L'osso duro è la matematica, cala il livello di istruzione degli alunni, dati del ministero comune per comune, i presi di colpa della DAD in pandemia ha ridotto l'accumulo delle conoscenze. Il livello di istruzione degli alunni salernitani al termine del decimo anno di scuola dell'obbligo è più che carente. A dirlo le recenti rilevazioni dei livelli di apprendimento effettuati dal ministero dell'istruzione, con un ulteriore campanello d'allarme dopo i dati diffusi dagli invalsi per gli studenti che si sono diplomati lo scorso anno. Nel salernitano meno di un alunno su tre raggiunge livelli sufficienti di apprendimento. L'alfabetizzazione e le competenze matematico-scientifiche lasciano a desiderare il compimento del decimo anno di istruzione, cioè del secondo anno del primo biennio delle superiori è ritenuto uno spartiacqua per la scuola locale e nazionale, eppure il bilancio non è dei più rosi. Comune per comune la situazione è precaria. Nel salernitano il 76,34% degli studenti del secondo anno delle superiori non sa comprendere un testo complesso di assumere e analizzare un brano. Sono 8.991 i ragazzi con livelli al di sotto della sufficienza dei livelli di competenza e conoscenza. Solo a San Severino i ragazzi superano la media provinciale. A Sala Consilina i peggiori risultati nel far di conto. Nel capoluogo il 73,17% degli allievi ha competenze insufficienti in italiano, l'83% con numeri e algebra. E andiamo a centropagine. Il caso del bimbo che non può studiare all'attenzione del provveditore a Cerre. I genitori sono in lite, il padre ha il divieto di entrare nel paese e di fida di iscrivere lì il figlio di 6 anni alla prima elementare. Una diffida che arriva anche per l'impossibilità eventualmente del padre di poter andare a prendere a scuola il bambino non potendo avvicinarsi al paese. Cambiamo argomento, parliamo di sanità, andiamo in basso, mancano le barelle, ambulanze in fila al Ruggi, vieti di Fratelli d'Italia indegno, intervenite subito. Nuovo ospedale, 5 pool di tecnici si sono candidati a dirigere i lavori. Si ripete la fila di ambulanze all'esterno del Ruggi. Ieri mattina erano 8 e mezzi di soccorso bloccati al pronto soccorso per mancanza delle barelle. Tre pazienti in attesa, anche una persona anziana di 90 anni complice le attività a ranghi ridotti degli ospedali vicino più piccoli e le ataviche. Criticità organizzative, nonostante la richiesta di trasportare via San Leonardo solo i casi gravi, sono troppi gli arrivi in reparto. Una scena, quella delle ambulanze in fila che si ripete con una certa frequenza negli ultimi tempi alla quale finalmente andrebbe trovata una soluzione. Questo è l'allarme lanciato da Fratelli d'Italia. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti. Parliamo ora invece di carceri. Vediamo il report presentato dal garante per dei detenuti. Vediamo carceri, SOS del garante, l'emergenza sanitaria, la relazione di Ciambriello, assistenza ad effettuare in prigione laddove possibile. A Forni in sei mesi 64 detenuti hanno tentato atti di autolesionismo. Ancora pochi agenti, ne mancano la metà e sulla struttura di Vallo della Lucania soltanto 10 celle in un edificio vetusto. Sopraffollamento e sanità erogata con il contagoccio sono queste le maggiori criticità. Secondo la relazione semestrale sulle carceri presentata ieri mattina a Napoli dal garante per i diritti dei detenuti Samuele Ciambriello. In 176 pagine non solo vengono analizzati i pughi del sistema a livello nazionale e regionale ma anche le difficoltà di ciascuna struttura del territorio campano. E andiamo avanti. La sicurezza colpo al centro scommesse e la terza rapina in pochi mesi. Lasciamo anche questa pagina. Andiamo ora sulle pagine della Piana del Sele, dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura a Eboli arrivano nuove telecamere di video sorveglianza sul territorio. Vediamo emergenza sicurezza, 21 nuove videocamere, piano da 149 mila euro. L'amministrazione spera di ottenere i fondi dal POC Legalità. Già individuati i punti sensibili dove effettuare le installazioni. E a Ponte Cagnano-Faiano occhi elettronici al Centola e a Pagliarone. A Battipaglia miasmi da compost, più fondi per eliminarli. La regione Campania corre ai ripari per non rischiare ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'intervento di confinamento delle emissioni o d'origine dell'impianto di compostaggio di Eboli. Nei giorni scorsi, infatti, gli uffici regionali, come si apprende dalla determina dell'ente d'ambito dei rifiuti di Salerno, ha disposto l'implementazione delle somme a disposizione del progetto, pertanto l'investimento complessivo a 2 milioni e 942 mila euro. Ad Ascea, e ci spostiamo in basso, il progetto WWF con PNG, spazi verdi e sperimentali per gli studenti. Vediamo le notizie riportate di spalla. A Battipaglia auto in sosta saccheggiate, raid notturno a Sant'Anna, auto sfasciate a Battipaglia. I ladri sono tornati in azione nella notte tra domenica e lunedì a Rione Sant'Anna, cannibalizzata, scusate, un'auto alla quale sono stati rubati il cruscotto con tutti i componenti elettronici. Amara la scoperta, la sorpresa ieri mattina per il proprietario del veicolo finito nel mirino dei ladri. I danni ammonterebbero a oltre 5 mila euro. E andiamo in basso, a Eboli, ultimo salevuto al Demi Infante, sempre vive le sue lotte. Chiudiamo il mattino di Salerno, vediamo le notizie per il quotidiano Le Cronache. Partiamo dall'intervista rilasciata dal direttore del Parco Nazionale Cilento, Vallotidiane Alburni, Romano Gregorio, che parla anche del nuovo Ministero del Mare. Vediamo aree marine protette necessarie o che siano di gestione dell'ente. Il direttore del Parco del Cilento, Romano Gregorio, non si sbottona per il dopo pellegrino, spero in un alto profilo. Benvenga il Ministero del Mare per la difesa della nostra biodiversità. Il nuovo esecutivo guidato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha varato due nuovi nomi per due di casteri. Si tratta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero del Mare e del Sud. Due enti che riguardano da vicino il Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il cui organo direttivo è in scadenza di mandato fissata per il 31 dicembre prossimo. Sulla questione interviene il direttore dell'ente vallese, Romano Gregorio. E andiamo in basso. Sessa Cilento, acque agitate. Si dimette anche il Vice Sindaco Michele Di Fiore. Caos nell'amministrazione Botti. Ad Agropoli Coppola attacca mutali passi. Dimentica che si tratta di progetti della mia amministrazione. L'ex sindaco rivendica la paternità degli interventi annunciati. Dopo mesi di silenzio l'ex sindaco di Agropoli Adamo Coppola si è definitivamente svegliato, abbandonando il basso profilo che lo ha contraddistinto da quando ad aprile venne sfiduciato dai suoi fedelissimi, molti dei quali oggi governano nuovamente la città. Ultima uscita di Coppola, in mero ordine cronologico, riguarda una dichiarazione dell'attuale primo cittadino Roberto Mutalipassi, di cui si mantiene il testo originale, errori compresi. Hanno preso il via questa mattina, ieri, per chi legge gli interventi di rifacimento di marciapiedi esistenti in via Chili, mediante manutenzione straordinaria, ha scritto. Saranno interessati dei lavori marciapiedi in cemento sul tratto nel senso unico che dall'intersezione con via Moro conduce su viale Europa. Inoltre il tratto prospicente, l'isola del pittore, del mercato coperto della frutta. Nei prossimi mesi l'amministrazione comunale, dice Coppola, sta promuovendo interventi di sistemazione dei marciapiedi in via Chili. Ancora una volta, e qui l'attacco, il sindaco omette di dire che si tratta di lavori già progettati, finanziati ed appaltati dalla mia amministrazione nell'ambito del programma di restyling di piazza Nasseria. Nei primi mesi, conclude un piccato Coppola, altre opere programmate nello scorso quinquennio vedranno la luce, contribuendo a migliorare i servizi, l'immagine e il decoro della città. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre sulle crone, che è arrivata a Camerota la nave scuola Amerigo Vespucci in occasione del premio Nasseria. Vediamo, premio Nasseria per la pace, la nave scuola Amerigo Vespucci nel Cilento, il presidente Vincenzo Rubano, il riconoscimento è dedicato a chi ogni giorno si impegna per salvare le vite. Viviamo in un periodo nel quale la società vede diversi valori messi in crisi. Dopo la tappa a Camerota si procede con altri eventi. E poi andiamo in basso, la storia, famiglia cilentana raggiunge il luogotelente Califano a bordo della nave emozionata alla moglie Antonietta, originario di Roccapiemonte, sposato a Camerota dove vive. Piccola nota di colore a bordo dell'Amerigo Vespucci, tra il personale vi è anche il cilentano Arturo Califano, originario di Roccapiemonte ma spostato a Camerota dove vive la propria famiglia. Questi ultimi, la moglie Antonietta Savastano e le piccole figlie Miriam e Immacolata hanno raggiunto l'uomo sulla nave. e chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora invece di sport. La Salernitana già da oggi inizierà la preparazione al Mary Rose in vista della sfida contro la Lazio dell'ex presidente, dell'ex patron Lotito. Vediamo, Salernitana, Nicola gioca il jolly, Boinen sarà l'anti Milinkovic Savic. Il norvegese all'Olimpico potrebbe essere schierato dal primo minuto in posizione di mezza alla sinistra per controllare l'asso serbo della Lazio. Il centrocampista sta facendo fatica a carburare dopo il lungo stop ma come l'anno scorso potrebbe fare il suo esordio da titolare a Roma, stavolta però con i biancocelesti. Quest'oggi il gruppo inizierà a preparare la difficile trasferta di Roma da valutare Daniliuc, Ghiomber e Dia. E poi andiamo in basso, giallo biglietti per Roma, dotazione per il settore ospiti di poche centinaia, tifosi Granata sul piede di guerra, possibile la diserzione. Poi ancora tifoseria, giovedì scatta la prevendita per la gara contro la Cremonese, confermati i prezzi popolari applicati con lo Spezia, diritto di prelazione di 24 ore per i fidelizzati. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.